questa è la spiaggia di mala luca a circa un chilometro da quella di vela luca c'è qui poca gente l'acqua mi sembra bassa o sbaglio all'inizio però solo magari da lontano c'è anche un posto dove ci fanno il pesce la griglia da essere quel baracchino che c'è sullo sfondo purtroppo non c'è il sole quindi non ce l'ho il colore non c'è bel colore azzurro ecco sempre mala luca ma vista un po più avanti dove c'è il barrettino dove ti fanno il pesce alla griglia provare il ombrellone con due lettini 120 cuna agosto 2017 peccato che non esce il sole quindi i colori sono un po smorti oggi poi ci sono anche gli occhiali a soli mi sembra anche peggio di quello che è grazie